La soglia degli intrattenitori rispetto ai veri artisti si è alzata parecchio, non lo dico come una critica, però oggi come oggi l'intrattenimento è sovrano, c'è un ricambio incredibile e c'è anche una bella fetta di musica che non è veramente musica, più meme, nel senso c'è tutta una serie di roba che esce che in realtà è proprio intrattenimento puro. Secondo me oggi come oggi ci sono molti percorsi, ci sono artisti che fanno i testimonial, francamente, la loro entrata principale viene dai brand, ci sono artisti che non vendono tanti dischi ma fanno un sacco di concerti, ci sono artisti che invece vendono tanti dischi ma nessuno va a vederli, esistono tanti campionati, bravissimo.